Oh, signore, sollevare! Una vita in secna te, in domenica te, non riesco a stare solo senza te, quando ci sono... Bella raga, dal vostro grande capitano Napoli e sempre Forza Napoli! Benvenuti in questo nuovo video, è arrivato il primo acquisto del nostro Napoli di questo calciomercato. mercato è ufficiale, Giovanni Di Lorenzo passa dall'Empoli al Napoli per 9,5 milioni di euro più 500 milioni di bonus e il Napoli andrà in Champions League anche il prossimo anno e quindi per un totale di 10 milioni di euro. Di Lorenzo passa al Napoli per 10 milioni di euro totali. Ha firmato il contratto di 5 anni a 1,2 milioni di euro più bonus. Giovanni Di Lorenzo è nato a Castelnuovo di Garfagnana il 4 agosto del 1993, ultima stagione in Serie A, 37 partite e ben 5 gol. Le caratteristiche tecniche di questo giocatore è un terzino difensivo che gioca prevalentemente a destra ma l'occorrenza può giocare a sinistra quindi molto d'utile. Sa far abbinare e corsa a resistenza una buona tecnica di base. Sono molto felice di questo acquisto, un giocatore sinceramente che a me piace, ottimo acquisto per il Napoli. Se nel Napoli riuscirà a giocare con una certa continuità sono sicuro che questo è un giocatore che potrebbe essere il futuro della nazionale italiana. Viene dall'Empoli se è vero ma ad esempio il Napoli prese anche, ad esempio faccio un nome a caso, Zilischi che l'ultimo campionato contro Napoli lo comprova proprio preso dall'Empoli e si è visto che bel giocatore che abbiamo preso. Non bisogna solo guardare da dove viene ma bisogna guardare al giocatore quanto forte è. Da dove viene conta fino a un certo punto. Vi auguro un buon proseguimento di giornata dal nostro grande capitano Napoli. Sono molto felice di questo acquisto, lo ripeto, lo ribadisco. Di Lorenzo passa dall'Empoli a Napoli per totali 10 milioni di euro. Vi auguro un buon proseguimento di giornata dal nostro grande capitano Napoli. Vediamo come proseguirà questo calcio mercato. Speriamo che sia un calcio mercato molto interessante per i nostri colori del Napoli. Mettete un bel like a questo video. Chi non si è ancora iscritto al mio canale iscrivetevi, iscrivetevi al mio canale. Sempre e comunque sempre forza Napoli. Buongiorno a tutti e al vostro grande capitano Napoli. Ciao io.